e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti iscrivetevi che manca poco ai 25.000 iscritti guardatevi i video fatti specialmente quello di oggi di sfogo e anche il video fatto col badia sul verona per quel che riguarda il calcio veneto la situazione in casa verona stasera era venerdì ho detto ma sì dai mettiamoci a vedere questo venezia speriamo di assistere a una vittoria di rilancio dopo la buona prestazione con il cagliari dopo la discreta prestazione col bari quella gara sfortunato ho detto mettiamoci a vedere questo venezia chissà che magari possa essere una scintilla no volevo anche fomentare volevo fare magari anche un post partita bello fomentato cosa abbiamo assistito ad uno schifo c'è anche il video del barbarotto che metterò sul mio whatsapp che allo stadio il buon barbarotto era in curva a vedere a vedere la partita è stata uno scempio qui veramente a me girano i coglioni perché voglio dire c'è una squadra no una squadra che in serie b c'ha giocatori del calibro di po giampalo cerisce zampano apps lasciando stare che molti di questi stanno sottorrendendo e performando veramente male ma lo stesso cernigoi busio joronen c'è una squadra cuisans una squadra con questi valori qua che fatica a mettere in riga due concetti di calcio che si caga addosso che non sa reggere i momenti che c'ha un'energia c'ha veramente c'ha una c'ha una cazzimma pari allo zero pari allo zero poi vi dico io penso che subentri sia un discorso di avorci che ci sta capendo poco sta anche abbastanza deludendo non ho veramente capito perché a fine primo tempo neanche voglio dire al sessantesimo sessantacinquesimo che già sarebbe stata una cosa erronea ma perché devi togliere cuisans per mettere anderson in campo no che già questo modulo che si è voluto dare sebbene io comunque condivida il discorso della mediana 2 è un modulo sicuramente un po più difensivo togli anche cuisans che è uno imprevedibile uno che ti fa le giocate uno che ti dà un'illuminazione per cosa poi per star lì a difendere l'uno a zero in casa contro il frosinone con tutto il rispetto per il frosinone che ero convinto avrebbe fatto un buon campionato perché ha fatto un ottimo mercato con i vari cervo con luccioni con lo stesso portiere turatina buonissima squadra il frosinone però ragazzi onestamente non dovrebbe esserci gara non dovrebbe esserci gara con un po più di carattere con un po più di di cazzema con un po più di voglia di fare poi vi devo anche dir la verità purtroppo la questione ambientale non aiuta perché ogni volta a venezia c'è lo stadio spoglio c'è lo stadio vuoto ci sono un sacco di elementi che si che si uniscono tra loro io vedo anche una società nella figura del del di niderauere del presidente che un po anche ci tiene avrebbe voglia di fare avrebbe voglia di di unire i tifosi avrebbe voglia di metterci la faccia di metterci il suo va ad inaugurare i club va alle feste dei club vedo un ambiente invece sempre molto malmostoso sempre difficile sempre polemiche sempre casini di sicuro ripeto l'ambiente non aiuta non aiuta per niente l'ambiente perché in casa sembra di giocare fuori per certi versi a parte quelli della curva che ci sono sempre fanno fanno loro però onestamente è una squadra che andrebbe anche magari un po fomentata perché avere fomento avere seguito significa anche avere attese significa far capire ai giocatori no che devono che devono tirar fuori le palle e far vedere qualcosa invece è una situazione avvitata su se stessa dove però anche permettetemi la situazione di conduzione di javorti ci sta molto deludendo cioè vedo la stessa mentalità dell'anno scorso cioè gente che non ha carattere che non che non che non ci mette la cazzì ma sembra una banda di di ragazzini in berbi capito una banda di ragazzini in berbi che alla prima difficoltà della partita scivola via invece tu cazzo con la carattura tecnica che c'hai che ti puoi permettere di giocare in serie b con certi interpreti ma dovresti poggiare le palle sul tavolo e fare una partita dove non dico che domini qualsiasi avversario ma quasi magari nessuno ti chiede di vincere il campionato ma di certo non essere in zona playoff play out questa è una squadra che a mani basse dovrebbe stare in zona playoff anzi forse col genua se la gioca ma per me sulla carta anche meglio del cagliari come valori potenziali come possibilità invece è sempre lì un gioco al massacro vai in campo devi sempre pregare è rimasta sta sensazione dell'anno scorso che devi stare a pregare il signore perché non succeda l'evento avverso nella partita perché non si metta male un parto anale ogni volta qualsivoglia risultato di piccolo media fattura un parto anale qui mi dispiace ma anche l'allenatore ci sta mettendo del suo perché io speravo pensavo che questo qui arrivasse e fosse capace un attimo ancora prima del lato tattico e tecnico dove comunque la squadra pur essendo forte non è di facile gestione perché a centrocampo un play ti manca per fare il centrocampo a tre quindi hai dovuto fare quello a due passi alla difesa per carità si è anche avuta l'intuizione di fare il 3 4 1 2 anche se io farei più il 3 4 2 1 che ci sta come cosa però poi ci mette anche nel suo con le gestioni con la scelta degli uomini tipo fiordilino e ceccaroni sono due per me che onestamente per come stanno giocando specialmente ceccaroni da inizio anno ma per piacere ma per piacere ma per piacere poi vi dico un'altra cosa qui ancora prima che dal punto di vista tecnico e tattico i problemi sono di testa perché vedo una squadra che purtroppo dall'anno scorso non è riuscita a resettare tutto non è riuscita a rendersi conto che la b era un'altra storia ma non doveva essere un'altra storia in senso solo delle difficoltà che ti dà la serie b ma anche di dire rimbalzo o le o le qualità o le caratteristiche per riuscire a fare bene in questo non c'è stato sto reset la squadra c'ha gli stessi fantasmi dell'anno scorso e questo è un fallimento ancora prima delle situazioni tecniche e tattiche ok e qui il mister mi dispiace ma i risultati non si possono vedere adesso ci sarà da fare una scelta non lo so lo dico lo dico con la morte nel cuore perché gli avorsici a me stava anche simpatico uno che ha allenato il sutirol c'era uno croato c'erano dei bei legami fare calcio nord est strade dell'est del nord no con bolzano questa stella io avevo avevo piacere se i avorsici restava se faceva dei bei risultati ma mi pare che qui la strada sia difficilmente proseguibile perché non puoi permetterti per me di perdere così tanti punti per strada c'è i giocatori come apps come po jampalo come come tanti che hai lo stesso cernigoi che non è gente che può stare tanti anni in serie b non so neanche quanta voglia ci abbia qui serve urgenza serve urgenzialità quindi un cambio di allenatore ad oggi per me va anche messo va anche ragionato perché non è possibile ricevere questi risultati sui milioni poi c'è anche il discorso ambientale questo lo dico al di là della sconfitta mi spiace vedere che a venezia poi ha ragione anche veduta per certi versi perché vedi i risultati come fai a chiedere entusiasmo alla piazza però è anche vero onestamente che è sempre molto malmostosa come piazza è un ambiente che difficilmente a parte ripeto la curva che ha calore che che sta però per il resto c'è sempre poco fomento sempre si parte con con il prezzemolo tra gli incisivi invece questo per me era un campionato nel quale l'anno scorso sono stato il primo quando la seguivo in serie a a dire che le cose erano state sbagliate che il calciomercato non si può fare un calciomercato del genere dopo un anno che viene in serie a avevi patito le pene dell'inferno alla serie a dovevi rimanerci aggrappato non con le unghie qui denti col culo dovevi rimanerci aggrappato alla serie a hai fatto un mercato impresentabile per quel che mi riguarda però quest'anno i beni di valore c'erano si poteva dare un po più di fomento per me alla squadra si poteva gasare un po di più l'ambiente anche per creare aspettativa per creare fomento per creare appartenenza viene sempre un po contestato il presidente viene contestata l'area tecnica che avrà le sue responsabilità però ecco un nocciolo di fomento preventivo in più per me avrebbe costruito sicuramente un penzo magari un po più caloroso una squadra un po più responsabilizzato un ambiente un po più positivo invece per me questa malmostosità dell'ambiente che si poteva anche un po evitare ha contribuito ad aumentare le difficoltà per me la strada per uscirne prima di tutto è quella di rendersi conto che il venezia è una squadra forte per la serie b ed è giusto pretendere da questa squadra è giusto fare tabula rasa di quello che è stato l'anno scorso rendersi conto che è una squadra diversa ed è una squadra forte di conseguenza tutte le responsabilità un ambiente un po più che sia capace di tifare un ambiente che supporti si seppellisca lascia nei confronti di presidenza tizio caio perché fai solo peggio e a livello tecnico sta un po rompendo i coglioni anche questa gestione qui e si veda se se c'è se c'è l'opportunità o di dare un'ultimissima chance però onestamente ho visto cose che un po non è che mi convincano molto anche gli avorcic onestamente decidere cosa fare con gli avorcic ma dal punto di vista tecnico non è che ho visto granché ditemi cosa ne pensate un caro saluto